Nella serata di ieri in località Starza del comune di Campagna, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un cittadino gambiano di 21 anni richiedente asilo nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, domiciliato nel centro storico, è stato trovato in possesso di 172 grammi di hashish e 10 di marijuana, il tutto già suddiviso in dosi e contenuto in un marsupio. Contestualmente è stata sequestrata la somma di 100 euro ritenuta provente di attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, l'arrestato è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.